Grazie di essere venuto. Avevo bisogno di parlare con una persona amica. Certo. Come stai? Ettore. È a lui che fanno del male. Puoi fargli avere questa lettera? Sì. Nelle sue mani, mi raccomando. Certo. Non mi fido più di nessuno, neanche dei miei avvocati. Ma forse è colpa mia. Non ho mai cercato un contatto vero con loro. Poi ho un cattivo carattere. Anche io, guarda. Per quello ci guardiamo io e te. Mi stringono il cuore. Beh, meno male che ci sono, però, no? Altrimenti sarebbe inutile. Tutto. Plaggio, reato, vergogna nello Stato! 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 Il tuo amore è così puro, tutto il bene che mi muore.